Questo mese stiamo esplorando cosa significa essere una nuova umanità redenta da Cristo. Cosa sono i rapporti tra le persone, tra i popoli e tra gli uomini e le donne che esalano il profumo di Cristo. Oggi arriviamo al capitolo 5 della lettera agli Efesini, che è un bellissimo capitolo. Parla delle conseguenze esteriori di avere Cristo improntato dentro di noi. Paolo aveva concluso il capitolo 4 di Efesini scrivendo Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Cristo forma un altro spirito in noi, che è benevolo, è sereno e pieno di grazia nei confronti degli altri. Ad ora, adesso inizia il capitolo 5 sulla stessa scia. Leggiamo l'inizio, è questo. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati e camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per voi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Siete figli da Lui amate. Siete figli di cui Dio è fiero. Perciò, dunque, come conseguenza, imitiamo Dio camminando nell'amore. La caratteristica distintiva delle nostre vite è l'amore, perché siamo figli e figlie amati da Dio. E anche perché, una seconda cosa, perché Gesù ci ha amati in modo molto concreto, ha dato se stesso in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. È questo lo spirito che noi inspiriamo. Come conseguenza, le nostre vite esalano questo profumo, amore, benevolenza, l'odore di Cristo. Un atto di amore supremo plasma le nostre vite, perciò camminiamo nell'amore. È questo lo spirito con cui Paolo scrive questo capitolo. Parlerà di principi e di comportamenti, ma non in modo isolato, meccanico, schematico, no. Sono il risultato di un cuore rinnovato. La sua enfasi non è comportati così, punto e basta. È apprendi l'amore di Cristo per te e vivi come conseguenza. Lascia che l'amore di Cristo plasmi il tuo modo di vivere. Siamo figli da Lui, amati, perciò camminiamo nell'amore. E questo è il tono del capitolo. Nei brandi successivi Paolo contrasta due modi di vivere. Partire da questo amore o partire dall'assenza di questo amore e cercare amore in altre cose, la luce o le tenebre. Leggiamo i versetti che seguono. Come se dici ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi. Né oscenità, né parole sciocche o volgari che sono cose disconvenienti. Ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un'idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Anzi, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Paolo collega il comportamento al cuore. Dice, né fornicazione, nel greco porneia, da cui abbiamo pornografia, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi. Perché? Perché sono forme di idolatria. Una persona avara non è soltanto una persona eccessivamente preoccupata del denaro. È una persona che colloca le sue speranze nel denaro, il suo valore e sicurezza nel denaro. trasforma uno strumento di scambio economico, di fare anche del bene, in una cosa suprema, nella sua identità, nel suo Dio. Invece di questo, scrive Paolo, abbonde il ringraziamento, la consapevolezza di tutto ciò che Dio provvede. Se perdiamo di vista chi Dio è, diventiamo avari. Se perdiamo di vista l'amore di Dio e cos'è una vita di amore, saremo tentati di vedere la sessualità non come un rituale di mutua donazione all'interno di un patto per la vita, ma come uno scambio carnale, fisico, momentaneo. La soluzione non si trova a livello puramente comportamentale. È più profonda. Dice, Non partecipate alle opere delle tenebre, anzi, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guarda Cristo. Abbracci il suo amore per te. Come conseguenza, non parteciperai alle opere infruttuose delle tenebre. Vedrai che il denaro non guarirà le tue ferite. Vedrai che il contatto puramente fisico non riempirà il tuo vuoto interiore. L'amore che cerchi lo troverai in Cristo. nutrendoti di Cristo. Leggo un altro brano che collega sempre il comportamento esteriore a cosa abbiamo dentro. Ok? Ecco. Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Di spirito. Parlandovi con salmi, ini e cantici spirituali. Cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Hai visto il contrasto? Se ti riempi di vino perderai l'autocontrollo e farai cose sciocche. No? Ma se ti riempi dello Spirito Santo di Cristo dalla tua bocca usciranno non parole oscene ma salmi, ini e canti spirituali. Trascorrerai la tua giornata cantando nel tuo cuore. Troverai in te non avarizia o bramosia, ma ringraziamento continuo. Troverai in te non la voglia di prevaricare sugli altri, ma di servire e di sottomettersi gli uni agli altri. Sono vite diverse. Se ci riempiamo di vino, di cibo, di pillole, di televisioni, di social media, dello Spirito dei tempi, vivremo di conseguenza una vita ansiosa, insicura, che cerca di affermarsi in competizione con gli altri. Ma se ci riempiamo ogni giorno dello Spirito di Cristo, trascorriremo la vita cantando. Una gioia emergerà da dentro di te. Vorrai amare e servire gli altri. quale vita vuoi? Dietro a questa domanda c'è un'altra. Di cosa ti stai nutriendo? Di cosa ti stai nutriendo ogni giorno? Sono domande importanti, eh? Nutriti di Cristo. Prima di tutto, inspira il suo Spirito. Abbi questo dentro. Adesso passo alla seconda metà del capitolo, che è dove voglio soffermarmi di più, questa parte finale. Perché questo è un brano un po' più controverso. di cui cristiani hanno interpretazioni diverse e che a volte viene anche usato abbastanza male. Per alcuni di noi che siamo nuovi nella fede sarà la prima volta che lo leggeremo insieme. Per chi invece è cresciuto in chiesa ha già sentito tanto a riguardo. Cerco di parlare ad entrambi i gruppi, ok? Entrerò in alcune questioni ma in un modo che spero che tutti riusciranno a cogliere. Qui ci sono varie posizioni. Quindi nel rispetto delle altre interpretazioni, non con spirito di polemica, e spiego cosa penso Paolo sia insegnando qui. Va bene? Ecco le mie dieci osservazioni per organizzare il filo del pensiero. Dieci. La prima osservazione riguarda il flusso dell'argomento in questo capitolo. Paolo coglie la conseguenza finale di essere riempiti dallo spirito, la mutua sottomissione, per parlare di come viene vissuta in un contesto specifico, nel matrimonio. Il brano che inizia non è scollegato dal brano precedente, no, nasce come conseguenza. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ecco allora come farlo in un contesto specifico, cioè nel matrimonio. Ok? Seconda osservazione. Paolo sta parlando di mariti e mogli, non di uomini e donne. Un punto molto semplice, ma molto chiave. Mariti e mogli, non uomini e donne. Ciò che dice riguardo a uomini e donne è questo qua. Leggiamo. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo, Gesù. Ci siamo rivestiti di Cristo, perciò maschio e femmina sono uno in Cristo, Gesù. Terza osservazione. Paolo si rivolge qui a mariti e mogli all'interno di ciò che ha appena detto sulla mutua sottomissione di tutti a tutti in Cristo, Gesù. Se siamo in Cristo, se ci riempiamo del suo Santo Spirito, ci sottomitiamo tutti gli uni agli altri. È ciò che è scritto al versetto 21, cioè tutti. Uomini a donne donne a uomini uomini a uomini donne a donne non soltanto le mori nei confronti dei mariti tutti tutti ora siamo famiglia ora siamo fratelli e sorelle se siamo uno in Cristo nutriamo questa unità sottomitendoci tutti gli uni agli altri nel timore di Cristo. C'è chi prende questo verso alla leggera e vuole focalizzare soltanto la sottomissione della moglie al marito nel versetto successivo ma Paolo ha appena scritto sottomitetevi gli uni agli altri in Cristo tutti ogni cristiano il modo in cui vive una moglie è soltanto un esempio di questo non l'unico guarda cosa dice un grande studioso biblico a riguardo una citazione ecco è interessante notare che quando Paolo invita le mogli a sottomettersi in Efesini 5 versetto 22 egli lo presenta come un esempio particolare della sottomissione di tutti i credenti l'uno all'altro nel versetto 21 sì la moglie deve sottomettersi al marito ma il marito seguendo l'esempio di Cristo per il servizio sacrificale per sua moglie deve anche sottomettersi a sua moglie ci sottometiamo tutti gli uni agli altri questo fatto è così palese che nell'originale greco manca il verbo sottomettersi quando si parla delle mogli non c'è dice sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo le mogli ai propri mariti come al Signore cioè si usa il verbo della clausola precedente non c'è un verbo usato soltanto per le mogli in altre parole non si può parlare nemmeno della sottomissione della moglie se non viene capito all'interno della mutua sottomissione di tutti in Cristo Gesù riempiti dello spirito ci sottomettiamo tutti gli uni agli altri uomini e donne mariti e mogli quarta osservazione allora cosa è questa cosa cosa è la sottomissione di cosa stiamo parlando è avere l'atteggiamento che Gesù aveva nei confronti degli altri è questo che non è prevaricare non è imporsi ma è servire è amare è donarsi è collocare il bene degli altri prima del nostro proprio bene leggo un altro brano in cui Paolo descrive questo avere l'atteggiamento di Cristo ecco Filippesi 2 in cui scrive non fate nulla per spirito di parte non così né per vanagloria ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso cercando ciascuno non nel proprio bene ma anche quello degli altri abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa cui aggrapparsi gelosamente no ma svuotò se stesso prendendo forma di servo divenendo simile agli uomini e trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte in croce perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre quindi è avere l'atteggiamento di Cristo nei confronti degli altri siamo umili perché Gesù è umile siamo servitore perché Gesù era un servitore ci doniamo agli altri perché Gesù si donò per noi è l'atteggiamento cristiano basilare nei confronti degli altri non soltanto delle mogli nei confronti dei mariti no di tutti ecco come Lutero Martin Lutero ha spiegato questa cosa questo paradosso ecco una citazione sua un cristiano è un libero Signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno un cristiano è un servo volenteroso in ogni cosa ed è sottoposto ad ognuno siamo liberi in Cristo Gesù ci ha redenti perciò non siamo sottoposti a nessuno perché Gesù è il nostro Signore non altri ma usiamo questa libertà per vivere come Cristo per essere servi volenterosi di tutti non è non è un'espressione di debolezza no è di grandezza di forza non significa subire qualsiasi cosa no significa avere l'atteggiamento di servo sossemerci a vicenda ok quinta osservazione questo significa che la sottomissione è qualcosa che può essere offerta soltanto volontariamente Paolo non ordina ai mariti di sottoporre le mogli o viceversa ma ad ognuno di fare la sua parte non puoi fare la parte dell'altro puoi fare la tua parte pensa a ciò che tu devi fare a ciò che io devo fare non a ciò che l'altro devo fare e perché anche perché se lo farai sarà la gioia più grande dell'altro entrare in questa danza di mutuo servizio no ah sesta osservazione penso sesta no Paolo concede qui una dignità e una capacità di decisione che le donne spesso non avevano all'epoca Paolo riconosce la possibilità di libero agire della moglie cioè non presuppone la sottomissione come un dato di fatto ma come un risultato del libero e consapevole agire della moglie a noi oggi non sembra ma è un elevamento della posizione che le moglie le donne spesso avevano all'epoca Gesù portò dignità rivoluzionaria alle donne lo vediamo di essere suoi discepoli di annunciare l'Evangelo di guidare le chiese di profetizzare tutto quello che troviamo nella Bibbia allo stesso tempo Paolo chiama le moglie a dimostrare il sostegno al proprio marito invece di voler vivere indipendentemente o di voler prendere il sopravvento sul marito vuole che i cristiani dimostrino non la lotta dei sessi non viviamo indipendentemente non uno domina sull'altro ma il mutuo sostegno mogli siete liberi in Cristo maschi e femmine sono uno in Cristo Gesù quindi usa il tuo libero agire per adottare l'atteggiamento di Cristo nei confronti di tuo marito settima osservazione la grande novità di questo brano non è ciò che Paolo scrive alle moglie questo era scontato per loro all'epoca la novità è ciò che dice ai mariti e come capovolge cosa significa essere un marito alla luce di chi Cristo è oltre a sottomettersi a vicenda Paolo scrive questo ai mariti mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé gloriosa senza macchia senza ruga o altri simili difetti ma santa irreprensibile allo stesso modo in questo modo anche i mariti devono amare le proprie mogli come la loro propria persona chi ama sua moglie ama se stesso infatti nessuno odia la propria persona certo anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la Chiesa poiché siamo membri del suo corpo perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola questo mistero è grande dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ama sua moglie come ama se stesso e tra di sé la moglie rispetti il marito Paolo definisce cos'è un marito non secondo schemi culturali ma alla luce di chi Cristo è amate le vostre mogli come? come Cristo amato la Chiesa e adatto a se stesso per lei e questo è il nostro modello di cos'è essere un marito di cos'è essere uomini anche non è Donald Trump non è Vladimir Putin non è Cristiano Ronaldo non è Mike Tyson è Cristo amate le vostre mogli in modo sacrificale non egocentrico donandovi invece di esigere cosa volete da loro amandole con tutte le forze non facendo il minimo necessario amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato a se stesso per lei è un linguaggio così forte davvero devo amare i miei amori come Cristo che poi lo aggiunge guardate che è del vostro interesse no? dice chi ama la sua moglie ama se stesso siete una sola carne no? infatti nessuno odia la propria persona anzi la nutre e la cura teneramente non prendiamo cura per esempio solo di metà del corpo e l'altra metà la tralasciamo tipo braccia non mi importo di voi soltanto delle gambe prendiamo cura dell'intero corpo con la moglie così se siamo una sola carne prendersi cura di lei è prendere cura di me stesso ed è anche abbastanza ovvio una moglie felice rende un marito felice una moglie che ha un marito così vuole amarlo nello stesso modo quindi ciascuno ama sua moglie come ama se stesso ottava osservazione il nostro modello non è neanche soltanto Cristo è Gesù quando si dona e si sacrifica e questo capovolge il nostro modello di potere e di grandezza Paolo precisa che non sta parlando di Gesù vittorioso in gloria seduto sul trono alla destra del padre poteva farlo ma di quando Gesù si dona e si sacrifica così possiamo pensare allora oh ma così non conviene essere uomo pensavo che la Bibbia ci desse dei privilegi no? soltanto la moglie si sottomette e che alcuni trasformano le donne e si sottomettono agli uomini ma se dobbiamo sottometterci anche noi e poi amarla in questo modo sacrificale guarda che non conviene no? hai colto bene hai colto bene Paolo ci chiama al sacrificio la sua intenzione qui non è elevare la mascolinità ma è redimere la mascolinità essere un grande uomo è servire è donarsi è sacrificarsi l'unica corona disponibile qui è una corona di spine mi ricordo una storia di quando due discepoli chiesero questo a Gesù Gesù concediti di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria cioè Gesù vogliamo gloria potere essere dei grandi e Gesù rispose questo voi non sapete quello che chiedete potete voi bere il calice che io bevo cioè la gloria di Gesù di Gesù è la croce volete veramente essere crocifissi uno alla mia destra e l'altro alla mia sinistra questa è la mia gloria questa è la corona che avrei da offrire è una corona di spine e in quel momento Gesù contrasta la definizione del mondo di grandezza e gloria con la sua chiamateli a sé quindi leggiamo subito dopo questo ma Gesù chiamateli a sé disse loro voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio ma non è così tra di voi anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti ragazzi il nostro modello è Cristo il nostro modello è Cristo se sei un seguace di Cristo sei chiamato a donarti a servire come lo fece Gesù chiarisco una cosa importante questo non vuol dire uomini appiatiti deboli passivi no non sto dicendo questo ma uomini forti in Cristo che usano la loro forza per servire altri la loro voce per difendere altri questa in verità è una chiamata alla vera grandezza cioè essere uomini uomini lasciamo andare il maschilismo che è roba da bambini di uomini insicuri che si sentono minacciati per esempio da donne capaci per abbracciare questa mascolinità salda redenta che punta adonarsi a immagini di Cristo questa è la vera forza questo è un uomo uomo vuoi vedere la grandezza di un uomo non guardare lui guarda sua moglie guarda intorno a lui perché è facile gonfiarsi il petto no? ma un grande uomo punta non a esaltare se stesso ma a far fiorire le persone intorno a sé è come un albero che nutre un ecosistema di persone intorno a sé gli amici i parenti i figli la gente in chiesa e soprattutto la moglie le figlie le donne intorno a lui le sue sobordinate al lavoro le sue sorelle in chiesa appassiscono vengono a meno sono limitate perché si crescono più di così minacciano il suo senso di mascolinità o fioriscono sbocciano sono elevate per essere tutto ciò che Dio gli ha creato ad essere per vedere la grandezza di un uomo non guardare lui guarda la moglie se la moglie sta bene e fiorisce e usa tutte le sue capacità per servire Dio ha un grande uomo accanto a sé se la moglie sta male avrai la tua risposta non osservazione è questa visione di mascolinità redenta e plasmata da Cristo che Paolo ha in mente quando scrive al versetto 23 leggiamo il marito infatti è capo della moglie come anche Cristo è capo della chiesa lui che è il salvatore del corpo tanti hanno perso di vista cosa Paolo dice prima ci sottomettiamo tutti a vicenda e cosa dice dopo Cristo è il nostro modello di uomo e prendendo questo versetto qua e altri simili in modo isolato difendono una sorta di gerarchia questo è il caso purtroppo soprattutto in italiano perché la parola capo qui in verità si riferisce a testa non è il nostro uso al giorno d'oggi di capo per parlare per esempio di un capo ufficio questa traduzione andrebbe aggiornata l'idea qui non è tanto che il marito ha autorità sulla moglie ma che la responsabilità di nutrirla e servirla come Cristo fa alla chiesa ha la responsabilità di dare inizio a e nutrire la logica del servizio a casa cito ciò che dice un teologo molto equilibrato John Stott riguardo questo ecco la guida del marito verso la moglie quindi è un mix liberatorio di cura e responsabilità piuttosto che di controllo e di autorità questa distinzione è di grande importanza prende la nostra prende la nostra visione del ruolo del marito e la colloca lontano da questioni di dominio e di processo decisionale no invece la pone nelle sfere di servizio e di nutrimento cito anche un commentario molto buono che svela le dinamiche culturali dell'epoca ok ecco gli antichi codici domestici tipicamente dicevano ai mariti non come amare le loro mogli ma come governarle sebbene Paolo sostenga l'antico ideale della sottomissione della sposa lo qualifica ponendolo nel contesto della sottomissione reciproca i mariti devono amare le loro mogli come Cristo ha amato la chiesa dando volontariamente la vita per loro sia i mariti che le mogli devono sottomettersi e amare l'analogia testa corpo del versetto 23 qui diventa un'immagine di unità piuttosto che di autorità cioè si parla di una parte del corpo la testa perché si sta parlando di essere un solo corpo della testa che prende cura dell'intero corpo come prende cura di se stessa qui il punto è l'unità tra marito e moglie essere una sola carte ok servizio nutrimento non comando decima osservazione penso che siamo alla decima ancora su questa idea di testa Paolo parla di essere testa come Cristo che è il salvatore del corpo il marito è testa nella misura in cui imita Cristo per sua moglie se è peraltro perdi questa responsabilità se usiamo questo versetto per non dare ascolto a tua moglie per sminuire tua moglie per mettere a fine discussione dicendo questo lo decido io perché sono io il marito peggio ancora per essere prepotenti o violento no ciò che Gesù ti dice è ravvediti smetti di essere bambino e diventa uomo non pretendere avere la posizione di Cristo senza avere il carattere di Cristo non pretendere avere la posizione di Cristo senza avere il carattere di Cristo hai questa responsabilità come marito nella misura in cui ti doni e ami tua moglie come Cristo ama la Chiesa hai questa responsabilità come marito soltanto per donarti e amare tua moglie come Cristo ama la Chiesa non per servire i nostri capricci insicurezze immaturità per essere pigri tutto il resto penso che sono arrivato adesso alla undicesima osservazione ok? ho calcolato male undicesima osservazione penso colgo questa scia per affrontare alcuni modi in cui testi come questi vengono abusati sono stati abusati nel corso della storia e fino ad oggi ribadisco ancora una seconda volta che riconosco che esistono altre legittime interpretazioni di questo brano ci sono in giro ok? una dice per esempio che Dio ha dato dei ruoli diversi alla moglie e al marito che il marito è capo e la moglie si sottomette anche se la parola ruolo non appare né qui né nessun altro brano della Bibbia per parlare di marito e moglie però ci sono altre interpretazioni riconosco che esistono ma ciò che voglio fare ora non è entrare in questo merito rimane per un altro giorno ma è fare un'altra cosa e aiutare tutti noi a riconoscere i filtri che abbiamo quando leggiamo la Bibbia che siamo plasmati dalla Bibbia ma anche da altre ok? ecco una slide distinguiamo ciò che è scrittura ciò che la Bibbia dice da ciò che è tradizione cioè in questo caso la nostra tradizione evangelica da ciò che è cultura la nostra famiglia d'origine il paese la regione in cui siamo cresciuti gli schemi culturali che abbiamo ereditato e da ciò che è sessismo la voglia di disprezzare e sminuire l'altro sesso vogliamo dire crediamo nella Bibbia le mie posizioni sono completamente basate sulla Bibbia ma dobbiamo anche riconoscere che tutti noi siamo stati plasmati anche da una tradizione teologica che può sovrapporsi alla Bibbia e interpretarla secondo gli schemi di questa tradizione che siamo stati plasmati dalla famiglia e dalla cultura in cui siamo cresciuti tutti e che parte dalle nostre idee e comportamenti sono sessiste sono frutto di peccato faccio un esempio per illustrare questo ok? un esempio l'esempio della schiavitù che è stata abolita in grande parte grazie agli sforzi dei cristiani che dicevano siamo tutti creati a immagine di Dio no? ma dobbiamo anche riconoscere che all'epoca esistevano tanti cristiani che difendevano la schiavitù citando la Bibbia proprio Fesini che dice subito dopo servi ubbidite i vostri padroni dicevano che Dio aveva fidato dei ruoli diversi all'umanità ok? riproduco ora alcune delle cose che dicevano giusto come esempio ma non le credo in nessun modo che sono razziste assurde giusto un esempio dicevano cose come Dio ci ha fidato dei ruoli diversi ad alcuni ha dato una pelle scura per lavorare sotto il sole sono anche più forti mentre noi bianchi rimaniamo all'ombra Dio ci ha dato la ragione per guidarli abbiamo lo stesso valore davanti a Dio eh? soltanto dei ruoli diversi ragionamenti assurdi ragionamenti assurdi razzisti che finivano per giustificare un sistema schiavista ingiusto oppressole e crudele con un linguaggio cristiano usavano il razzismo per interpretare la Bibbia invece di usare la Bibbia per crocifiggere il loro razzismo molto comodo questo discorso di ruoli faccio questo esempio per aiutarci a vedere che usiamo ragionamenti del genere fino ad oggi non ci sono uomini che perpetuano stereotipi stessisti sotto una vernice apparentemente cristiana dicendo cose come la donna è più fragile la donna ama stare in cucina e prendere cura della casa non esiste privilegio più grande per una donna di fare la mamma domanda rivolta a noi uomini traiamo questo dalla Bibbia o da stereotipi culturali e dalla nostra voglia di perpetuare schemi vantaggiosi a noi anche noi uomini siamo fragili tutti noi siamo fragili il discorso di essere fragili non può essere una scusa per limitare nessuno anche noi uomini amiamo di stare in cucina perché no a me piace cuciniamo mangiamo e le donne hanno tantissimi altri contributi da dare oltre alla casa ovviamente è un privilegio per noi anche fare essere padri come anche le donne danno tantissimi altri contributi oltre ad essere madri ovviamente va benissimo per esempio fare la mamma e la casalinga e va benissimo lavorare full time fare carriera essere direttrice presidente sì onoriamo le vocazioni che Dio ha dato ad ognuno di noi se una persona dice amo fare la mamma voglio fare la casalinga diciamo ottimo ti sosteniamo sorella è bellissimo ti onoriamo vai un'altra persona invece dice la mia chiamata è usare i doni che Dio mi ha dato nel mondo del lavoro per servire oltre ad essere padre e madre e diciamo lo stesso ottimo ti sosteniamo non seppellire i doni che Dio ti ha dato usali va bene avere donne che sono dottori e uomini che sono infermieri donne che insegnano che sono professori all'università e uomini che insegnano alla scuola elementare donne che sono senatrici ministri presidenti e noi uomini elettori che le votiamo va bene è il modello vediamo anche della donna che viene esaltata per esempio in proverbi 31 c'è questo capitolo dedicato a questa donna modello che oltre a prendere cura della famiglia eccetera è un'imprenditrice provvede alla famiglia lega un pezzo guarda cosa fa questa donna posa gli occhi sopra un campo e l'acquista con il guadagno delle sue mani pianta una vigna si cinge di forza i fianchi fa robusta le sue braccia sente che il suo lavoro rende bene e la sua lucerna non si spegne la notte cioè lavora provvede obiezione magari c'è questo in testa René oggi ti vedo un po' agitato la cosa non è così grave soprattutto questo paragone con la schiavitù è una forzatura non stiamo parlando di queste cose rispondo a questa magari fosse una forzatura magari ecco un po' di dati oggi esistono non ci sono mai stati così tanti schiavi nel mondo quanti esistono oggi lo sapevi? abbiamo circa 40 milioni di schiavi nel mondo più di quanto esistevano nell'antichità o nell'ottocento in alcuni casi per motivi economici in alcuni casi a causa di conflitti etnici ma gli schiavi che abbiamo in Europa che abbiamo a Roma che abbiamo in Italia sono più che altro schiave il fattore determinante non è più la razza ma è il sesso sono donne vittime della tratta sessuale e dell'industria del sesso raga questo è serio cosa troviamo ogni giorno nei nostri giornali delle donne che fanno uso di violenza contro gli uomini o uomini che fanno uso di violenza contro le donne non ogni tanto ma praticamente ogni giorno questa notizia poi ogni giorno centinaia di milioni di uomini in tutto il mondo si nutrono di video che non mostrano scene di amore e complicità ma in cui i uomini sono a sottoporre e umiliare le donne in cui i uomini sono in piedi e le donne sulle ginocchia è questo che fa la pornea magari fosse una forzatura questo è serio quindi noi diciamo no il nostro modello di mascolinità è fare del bene alle donne è un grande uomo non le fa appassire ma le serve le cura le ama le solleva le fa fiorire siamo chiamati a dimostrare una nuova umanità in Cristo Gesù ha abbattuto il muro di separazione per fare di noi una nuova umanità in cui non c'è né giudeo né greco né schiavo né libero né maschio né femmina perché siamo tutti uno in Cristo Gesù distinguiamo ciò che è Bibbia da ciò che è tradizione da ciò che è cultura da ciò che è peccato è sessismo il sessismo esiste in queste forme tragiche che ho menzionato ma anche in forme nelle nostre interazioni nelle battutine nei cosiddetti ruoli aspettative io riconosco che io ero sessista ho imparato a vedere questo confesso che facevo battute tipo se una macchina davanti a me era guidata in modo non motuabile dicevo scommetto che sarà guidata da una donna sai queste cose facevo battute del genere ma riconosco che oggi sono denose non va bene sono sessista perpetuo stereotipi danosi ecco una storia recentemente Sara è andata a presentare il progetto che guida a un gruppo di pastori revive è grandissimo coinvolge 25 organizzazioni migliaia di persone di tutti i paesi d'Europa è grande insieme a lei in questo evento c'era un uomo della sua squadra un uomo britannico responsabile per la comunicazione il pastore che guidava quell'evento è andato non da lei ma da lui ti chiamerò avanti per presentare e Andy ha risposto oh in verità la responsabile è Sara il pastore non l'ha capito un po' dopo tutto a posto Andy Andy lo farà Sara fin da che è arrivato il momento il pastore chiamo avanti Andy Andy ecco Sara quel pastore non l'ha fatto con una cattiva intenzione era una persona carina genuina ma i nostri pregiudizi emergono non è vero? chi pensi guida un grande progetto un uomo britannico o una donna brasiliana i nostri pregiudizi emergono alcuni anni fa Sara lavorava per un altro ministero ha fatto in occasione una presentazione eccellente che è stata apprezzata da tutti ma alla fine un suo collega il cui ministero non è fiorito in moto è andato a dirle volevo ricordarti che la tua responsabilità principale è essere moglie e madre cioè che vuol dire perché ha fatto una buona presentazione non è una brava moglie o madre e come lo fa sapere se non è mai venuto a casa nostra per verificare io sono il marito e posso dire che è una straordinaria moglie e madre e che è brava al lavoro si può fare e non mi sento per niente minacciato anzi sono fiero di avere una moglie capace e intelligente che serve Dio che è brava a casa e serve Dio fuori casa ma esistono uomini che dicono cose del genere perché si sentono minacciati raga non va bene non va bene e donne dovete aiutarci a vedere queste cose Sara mi ha aiutato con gli anni prima da uomo non le vedevo non pensavo esistessero un'altra storia una volta abbiamo fatto una riunione con degli anziani di una chiesa e alla fine Sara ha detto hai visto come nemmeno mi guardavo no? ho detto no non ho visto niente e lei quando tu parlavi ti guardavano negli occhi ma quando io parlavo guardavano per terra e poi rispondevano a te donne dovete aiutarci a vedere queste cose io non avevo occhi per vederle dovete aiutare noi uomini a riconoscere il nostro stessismo raccontate le vostre esperienze e noi uomini diamo ascolto alle nostre sorelle anzi andiamo da loro a chiedere raccontami le tue storie sentirai storie terribili qualsiasi donna avrà delle storie horror da raccontarti no? il mio punto qui è distinguiamo cosa è Bibbia cosa è tradizione cosa è cultura e cosa è sessismo non lasciamo che la tradizione la cultura o il stessismo dettino come leggiamo la Bibbia ma è il contrario ribadisco una terza volta che rispetto alle altre posizioni le altre interpretazioni di questo brand esistono legittime ma voglio giusto invitarci tutti a riflettere siamo arrivati alle nostre conclusioni perché derivano puramente dalla Bibbia o perché stiamo anche perpetuando la tradizione che abbiamo ricevuto la cultura in cui siamo cresciuti e il nostro stessismo la Bibbia è infalibile ma noi siamo fallibili e dove mi riconosce cosa abbiamo dentro di noi ancora prima di leggerla per riuscire ad interpretarla bene concludiamo allora so che ho toccato tante cose oggi so che abbiamo tanti sentimenti dentro di noi no? quindi dove concludiamo concludiamo ai piedi di Cristo certo ai piedi del nostro salvatore del nostro modello di cosa essere uomini e donne mariti e mogli lui è il grande amiamoci gli uni gli altri e ci sottomettiamo a vicenda perché questo è il nostro Gesù perché Gesù ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per noi noi siamo stati feriti da altri e abbiamo ferito altri ma possiamo avvicinarci a Cristo con fiducia perché Gesù non ci deluderà anzi guarisce le nostre ferite e perdona il nostro peccato quindi ora concludiamo ricordando la sua morte e la sua risurrezione quando Gesù ci amò appunto di donarsi per noi e la sua risurrezione per noi e la sua risurrezione per noi e la sua risurrezione per noi per noi